Questo video è dedicato a chi ha iniziato con noi questo viaggio e a chi si è aggiunto strada facendo a tutti i nerd in ascolto vogliamo continuare a portarvi immagini che fanno sognare e storie che fanno sorridere Noi siamo pronti per un nuovo anno ricco di emozioni e sorpresi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ma siete finiti lì? Questo succede perché in effetti è anche la sede del gatto Ci guarda un gatto da lì? Ci sta minacciando? La Sama ci guarda come se fossimo dei deficienti Mi hanno detto che è bellissimo ma perché c'è un gatto qui? Un culo di gatto C'è un gatto? C'è ancora un gatto? Sono di pelo rosso? C'è ancora un gatto qui? E vi portiamo nel castello di Torrechiara che fu il luogo dove... di cui io non mi sono accorto mai Di cui io non mi sono accorta mai Beh mi hai sposato no? E' successo dove anni dopo? Questa è la coda di un gatto Questa è la coda di un gatto Beh, questo vuol dire che... Che faccio? Lascia, lascia Eh no, il gatto è fuori inquadratura Adesso nella mia lista restano solo altri 933 posti Ma il gatto ne riesce a rimbellare Per ventilare calmo Ma stai però ventilando, non mi fai così? Non so mica un bue, cos'è? Il viaggio continua Buon Natale e un 2023 Supermerd a tutti! Ritualdo